Ciao, sono San Martino Roberta, la titolare del bar-bottega La Fleccia di Inverso Pinasca. Inverso Pinasca è un piccolo paesino di passaggio, una località di pochi abitanti, dove ci sono pochissime attività, tra cui forse la principale, la mia attività, quindi questo bar-bottega. Questo è un locale storico, fa parte della mia famiglia da generazione dal 1800, in particolare è stato un punto di riferimento per i partigiani dell'ora, è stato per loro un covo, un punto di riferimento, un punto di ristoro. Nel locale si possono trovare diverse testimonianze con foto, libri e documenti che ricordano le venture dell'epoca. Abbiamo riaperto questa attività a ottobre del 2019, grazie anche al contributo del GAL, che ci ha aiutato a rimettere in sesso l'attività. All'interno del locale si possono trovare dei prodotti tipici della zona, questo è anche un servizio in più per il turista e soprattutto per la popolazione anche di Inverso Pinasca e delle zone limitrofe, per avere un punto di riferimento che è venuto a mancare da tanti anni. Il locale è a piano terra, quindi è accessibile a persone con disabilità e nel davanti del locale si può trovare una zona verde adibita a tavoli da pinniche, a zona sosta, con una giostra inclusiva specifica anche per bambini con disabilità. Il contributo del GAL ci ha aiutato a rimettere in sesso questa attività che usò ormai dal 2007, ci ha aiutato per la ristrutturazione, per l'apertura del locale e ci ha aiutato a rimettere in sesso la zona esterna adibita a sosta per turisti e passanti di libero accesso. Il lavoro sta andando molto bene e ci auguriamo che proseguo così per tanti anni.